Ciao a tutti ragazzi in questo nuovo video, io sono Dancefloor City e oggi andremo a giocare a Minecraft Ora sto giocando io e sto facendo una... come si dice? Una stalla per i cavalli, i... come si dicono? I maiali e le pecore, se ci riusciremo, perché se mi vorrei mio fratello qua Allora raga, questo qua andremo a... allora, eh, a voi non so parlare, scusate Non c'è molto da commentare perché... aspetta ma... possiamo fare una casa? Eh, una casa, va bene, vabbè facciamo una casa Dove facciamo pure la stalla per i cavalli, per le pecore e per i maiali Questo video durerà all'incirca 10 minuti, 5 Eh, dopo, alle... 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 mezzogiorno e mezza Farò la live And... andate tutti a vederli, ok? Perché farò la live di Fortnite Alle 12 e mezza Non ci ma... non mancate Eh, raga... non lo so se chiuderlo o male il video perché... è noioso stare così, capi? Vabbè, ma comunque vi ho detto delle cose Ehm... Mo sta giocando il mio fratello E vuole fare una casa qua Il suo... il suo personaggio Ehm... La skin di ciccio... la skin di ciccio... la skin di ciccio gamer Non lo so perché ha messo la skin di ciccio gamer Eccola E' gg per ciccio gamer Come assomiglia Raga, io direi che... questo potrebbe chiudere... c'è... possiamo chiudere il video Ehm... alle 12 e mezza non mancate Io alfino mi sistemo Ehm... raga... e... ciao!